Difficilmente i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson saranno ancora somministrati nelle marche nel 2022. Troppi rifiuti, troppi i sieri che gli hub vaccinali stanno rispedendo indietro alle unità operative di farmacia clinica. Nella giornata di oggi sono state riconsegnate 10.000 fiali di AstraZeneca che verrà continuato ad essere utilizzato solo per somministrare le seconde dosi a chi ha cominciato la profilassi col siero anglosvedese. Quanto a Johnson & Johnson si andrà avanti fino all'esaurimento scorte di un vaccino monodose quasi esaurito che è stato ricevuto da appena 27.000 marchigiani su oltre un milione di cittadini regionali vaccinati. Si sta dunque prefigurando la tendenza di una futura terza dose nelle marche solo con i vaccini Pfizer e Moderna. Terza dose che si appresta a ricevere il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco per le prime categorie. A sei mesi dal secondo richiamo si potrà infatti procedere solo con Pfizer e Moderna a soggetti fragili, anziani ospiti dell'RSA e personale sanitario. Il tema dei vaccini resta centrale anche in vista della ripresa dell'anno scolastico di mercoledì che intanto ripartirà con la novità dei test salivari agli studenti anche di scuole elementari e medie. Un test per cercare di monitorare una popolazione scolastica di 106.000 studenti marchigiani under 14. Non rivelate al momento le prime scuole che la prossima settimana saranno sottoposte ai tamponi lecca-lecca.